Oh Fla, ma chi ha pensato alle grafiche di questi liquidi? Aveva guardato Catwoman la sera prima? Robi o grafici o quant'altro della Puff, complimenti sono bellissimi, io sto scherzando eh Let's see how you're doing when the motherfucking pace drops Ciao a tutti ragazzi bentornati! Mi sistemo il cappello perché mi dà fastidio Ciao a tutti ragazzi bentornati e bentrovati sul canale di MattiVape per una nuova recensione, precisione, recensione, con la recensione della precisione per la recensione di MattiVape sul canale di MattiVape con la tosse ed eh Ma da quanto tempo è che non ci vediamo? Mi siete mancati, mi è mancato registrare, aspetta un attimo Mi siete mancati, mi è mancato la telecamera in faccia, adesso so tutta la luce del mondo, sembro illuminato tipo Dio Sono una web superstar quel c***o che sia sia insomma Ragazzi sono qui per presentarvi due nuovi liquidi della Puff Allora la linea di liquidi della Puff nuova si chiama Sinners E sono due nuovi liquidi, il B e il Big Bang si Il Bang e il Vroom Ma straordinaria sta roba che c'è sta grandissima c***a tra l'altro sopra Una che mi punta la pistola e l'altra che va in moto e fa vedere lo stacco di coscia, è straordinario Ma la vera figata sta nel fatto che voi aprite la scatola e trovate la boccia ben chiusa Ed il dropper, meglio detto Però si può dire anche Meglio detto becco, meglio detto chiamatelo come c***o volete, il vero nome è dropper Fate attenzione a quando aprite la scatola perché Perché se aprite e fate i fighi PowerDireMite vi pisciate tutto il liquido tra le mani Non è proprio simpatico Ma questa è una gran figata perché non dobbiamo stare a impazzire Quando apriamo il chubby Questi qua sono quelli che si chiudono e quando si chiudono poi è la fine E quindi è più semplice l'apertura Allora ragazzi Adesso ragazzi li andiamo a provare Io non so perché Non chiedetemi come Non chiedetemi quando E non chiedetemi se Ma io ripongo una grandissima fiducia in questa linea Proprio come quando uscì Code Non so perché saranno le grafiche Sarà il cambio a chubby Saranno mille cose differenti Ma secondo me questi liquidi qua Sono tipi Podo Tipi Podo Tipo Dio Partiamo dal Bang Il Bang Dicono sia Vaniglia Custard o Custard Come volete chiamarla E fragola matura Vabbè insomma Vaniglia Custard e fragola Principalmente Ma non è una fragola blanda O stupida O scema Ma è una fragola molto matura Andiamo provando Beh 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 E ancora beh È veramente Tipo Dio È buonissimo È una fragola che non è la solita fragola È una fragola fragolosa È una fragola fragola È una signora fragola Allora Parli con me Te la sei cercata Ho detto Parli con me Saranno cavoli Dovete chiamarmi Signor Maiale Ragazzi Molto buono Molto Molto buono Complimenti agli aromatieri di Puff Veramente È buonissimo E ovviamente Sono degli 80-20 Questi qua Non serve neanche dirlo Perché sono dei signori 80-20 Sì Molto Molto buono Adesso vado a drippare Il vroom Il vroom Che io continuerò a chiamarlo Vroom Non so perché Ma per me è vroom Però è vroom Che questo È il più bastardo È il più infido Perché questo qua È un buffer Alla crema di nocciola Con dei sentori di cioccolata Ma molto buono Non fatemi dire di più Per piacere Vado a svappare Porca P*** P*** Perché È buonissimo È buonissimo È buonissimo È tipo Dio Ma è un Dio zitto P*** È buonissimo Ragazzi È buonissimo Cioè Vedi come c***o faccio A dirlo senza dirlo Io ve lo dico Senza dirlo però Cioè È tipo Dio B*** Mai provato Il liquido così B*** Porca Ragazzi Mi dispiace Questo Cioè Questo È la mia Nuova Droga D'ora in poi Io se esco di casa Senza il vroom Non esco di casa Do la testa al muro È straordinario È liquido che cercavo Dolcissimo Per l'amor di Dio È dolcissimo Ma è troppo buono Troppo A me fa impazzire Ragazzi La recensione è finita 10 E lode Anzi 15 Perché il vroom È veramente Da 20 Secondo me Quindi 15 Per la linea Perché a me Tra i due Il bang piace un po' di meno Però Sono da 15 Cioè Se io devo dare un voto A sti due liquidi Per me Il bang È da 9 Ma Il vroom È da 15 Da 20 Da 25 È buonissimo Ragazzi Veramente Detto ciò Se il video vi è piaciuto Vi invito a mettere mi piace E condividere Condividete questo video ragazzi E facciamo conoscere a tutti Il vroom Davvero Taggatemi su Instagram Andate nei vari Puff Store d'Italia Venite qua Nel Puff Store Pergine Provatelo Fidatemi di me Per piacere Una sola cosa Vi chiedo Fidatemi di me E provate questo liquido qui Davvero È buonissimo È straordinario Ragazzi Chiamatela marchetta Chiamatela come cazzo volete Però davvero per me Questo liquido qua È assurdo Vi invito a mettere mi piace A condividere Iscrivervi al canale Se non l'avete fatto E potete attivare la campanella E così vi arrivano Tutte le notifiche Del mio canale Vi invito anche A iscrivervi ai miei social Instagram e Facebook Che utilizzo per la maggiore Ma anche a mettere mi piace Alla pagina del Puff Store Pergine Se il video non vi dovesse essere piaciuto A questo giro Non me ne frega un c***o E ve ne fate voi La ragione Perché io non me la faccio Perché questi liquidi Sono troppo buoni Ciao ragazzi Con l'ultima cosa Fire up and loud Another rocket shot Turned down for what Turned down for what